Non solo Riviera, l'Emilia Romagna e anche Appennini, Parchi e Natura. Proprio a questi aspetti meno conosciuti della regione sono dedicate le iniziative di Itinerando, associazione che da più di 20 anni organizza giornate alla scoperta del territorio. Oltre 200 le proposte che spazzano dai trekking per gli escursionisti più esigenti alle visite didattiche per i bambini. Il calendario con tutti gli appuntamenti per l'estate 2014 sul sito www.itinerandoemiliaromagna.it